L'11 febbraio è il termine ultimo per partecipare al bando di concorso per l'Accademia Navale di Livorno. Quanti sono i posti a disposizione e quali sono le lauree richieste? Per il concorso nell'Accademia Navale di Livorno sono disponibili 133 posti con 6 corsi di laurea diversi. Abbiamo il corso di laurea in Scienze Marittime Navali che formerà gli ufficiali di vascello, quindi gli ufficiali appartenenti al corpo dello Stato Maggiore, corsi di laurea in Ingegneria Navale, corsi di laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni e Ingegneria Civile. Abbiamo anche un corso di laurea in Giurisprudenza che forma gli ufficiali appartenenti al corpo del Commissariato Marittimo e infine abbiamo il corpo delle Capitanerie di Porto con il corso di laurea in Scienze del Governo e dell'Amministrazione del Mare e anche i dottori, i ufficiali medici che seguiranno la laurea in Medicina e Chirurgia. Perché partecipare a questo concorso? Perché l'Accademia Navale di Livorno dal 1881 forma i giovani ufficiali di Marina e la quale offre un mare di opportunità che garantiranno una crescita sia professionale ma soprattutto anche personale. Darà l'opportunità comunque anche di effettuare tantissime attività diverse che spaziano soprattutto ovviamente sul mare e che garantiranno tantissime soddisfazioni. Tu in particolare che ruolo hai? Io su nave Luigi Rizzo sono ufficiale di rotta e nella fattispecie mi occupo della pianificazione di tutta la navigazione e di occuparmi anche ovviamente della sicurezza della navigazione per portare la nave da un punto A a un punto B. Per cui quello che vorrei consigliare è di guardare lontano e scegliere la Marina. Per chi volesse avere maggiori informazioni dove le può trovare? Tutte le info di dettaglio del concorso sono reperibili sul nostro sito istituzionale www.marina.difesa.it poi sul portale difesa newsletter impa.gov.it e anche sui canali social della Marina Instagram e Facebook.